Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di spaghetti 70 grammi di burro 50 grammi di parmigiano Sale e un bicchierino di cognac Preparazione In abbondante acqua bollente e salata cuocere al dente gli spaghetti Sgocciolarli e versarli in una terrina Condire la pasta con il burro fuso a bagnomaria Il cognac ed il parmigiano Sgocciolarli e salata cuocere al dente